Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon day. Si usa a dire ai genitor che finquanchi i fissa sono piccoli si ha fastidisi piccoli, ma quando sono grandi si ha fastidisi grandi. Nel stesso tempo succede che finquanchi i fissa sono piccoli i genitori sono pieni di fuorce e quando venivano i fastidisi grandi dai fissi grandi i genitori vanno in un fuorce e forse va bene così, perché in ogni caso i fissi saranno una loro strada di fare e toccheranno la saio liberi, ma per grandi che diventano i fissi e per liberi che si vede di la saio, voi altri genitori lo sapete che quando patissi ho patissi tanto anche voi, anzi ho patissi il doppio perché ho patissi per i fissi e per voi altri. Buone giornate e buone vite! Grazie a tutti!